Sì, buonasera mister. Dispiace sicuramente questa eliminazione, ma ci si chiede il secondo anno che la Juventus esce da questa competizione contro una squadra assolutamente non di blasone. Questa sera tra l'altro la Juve è entrata in campo con l'approccio giusto, ha giocato una bella partita. Cos'è quell'elemento che è mancato secondo lei? Grazie. Io parlo per quest'anno, non parlo degli anni passati. È mancato che abbiamo commesso purtroppo quattro errori in due partite che ci sono costate la qualificazione. Quando commetti degli errori in una competizione come la Champions League poi è normale che tu possa uscire. Antonio Paolino Ciao mister. Ti chiedo cosa non è funzionato questa sera e se hai avuto modo, nel concreto, di parlare a caldo con il presidente. Grazie. Sì, sì, no, col presidente ho parlato finita la partita. Abbiamo parlato di futuro, di quello che dobbiamo continuare a fare, della partita. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Abbiamo iniziato anche abbastanza bene, creando un'occasione con Morata che poteva girare la partita in un altro modo. Poi dopo il gol di loro abbiamo avuto magari dieci minuti di disagio, non eravamo più tanto compatte. Abbiamo subito un po' l'impatto della situazione, pensando che fosse dura poi ribaltare il risultato. Poi invece nel secondo tempo siamo entrati con un'altra testa, con un altro piglio e l'avevamo rimessa in piedi. Poi gli episodi potevano girare un po' più a favore, mentre abbiamo commesso un errore che ci è costato la qualificazione. Salve mister, volevo chiederle se ha paura che l'eliminazione di questa sera possa essere un contraccolpo per il campionato e anche per la finale di Coppa Italia e un suo bilancio finora sulla stagione della Juve. Grazie. Un contraccolpo sulla finale di Coppa Italia? Non credo proprio perché si svolgerà alla fine di maggio, quindi ci sarà tempo per assorbirla. Dovremmo iniziare a pensare solamente al campionato, iniziare a poter lavorare ogni settimana con l'obiettivo di vincere tutte le partite che avremo a disposizione e quindi questo sarà il nostro prossimo obiettivo. Videogruppo, Nicola Gallo. Buonasera mister, questa volta l'approccio è stato migliore, c'è stata con l'opportunità di Morata, però ancora una volta vi siete trovati ad inseguire. Vi chiedo se c'è un problema da questo punto di vista su cui lavorare o se è solo una casualità e poi vi chiedo se la squadra si porta un pochettino dietro, non dico la maldizione della Champions, ma una pressione superiore per un obiettivo che da tanto tempo è inseguito ma sfugge. Ma no, la pressione è normale averla quando giochi nell'Eventus e quando devi passare un turno di qualificazione a scontro diretto. Avevamo la pressione ma come ce l'avevano anche il Porto, avevamo preparato bene questo tipo di partita, poi si è un po' incanalata in un altro modo, ma siamo stati molto bravi a reagire e a cercare di portarla a casa fino alla fine. Gli episodi non sono stati dalla nostra, però abbiamo cercato in tutti i modi di portarla a casa perché credevamo in quello che potevamo fare, la squadra era compatta, era entrata con il piglio giusto perché voleva a tutti i costi passare il turno, purtroppo poi capita anche di uscire. Per Repubblica o non le gamba? Ciao Andrea, hai detto prima che hai parlato con il Presidente, avete già anche accennato qualcosa sul futuro, voglio chiederti se avete parlato di qualcosa di specifico, se ha dovuto rassicurarti o se non ce l'era bisogno. No, no, non mi ha assicurato di niente perché ero già tranquillo, mi ha detto che il progetto è appena iniziato, è iniziato quest'estate quindi da qui si va avanti, i giocatori che sono arrivati quest'anno stanno dimostrando di essere da Juventus, che possono giocare queste partite con questa pressione, con questa importanza e da qui ripartiamo. Timo Termezano Sì, buonasera mister, volevo sapere, visto che ieri ha detto che queste sono le serate in cui Cristiano Ronaldo si esalta e lo dicono anche i suoi numeri in Champions League, sei lecito a essere un po' delusi per la sua prestazione di questa sera? Quando gioca Cristiano Ronaldo solitamente parti dall'1-0 ma capita anche a un giocatore formidabile come lui di non riuscire a far gol. Ci aveva pensato Federico che ha fatto una grandissima prestazione ed era riuscito anche a fare una doppietta. Capita anche ai campioni di non riuscire a metterle il sigillo però ha dato il suo contributo, ha cercato di fare quello che doveva fare e peccato che non ci abbia portato al raggiungimento della qualificazione. Corriere della Sera, Paolo Tomaselli Andrea buonasera, volevo chiederti, quando tu eri un giocatore del Milan si parlava spesso, anzi per non dire sempre, del DNA europeo del Milan. E la Juve ha questo DNA, se non ce l'ha come si fa a costruire questo tipo di mentalità in Champions? Anche la Juventus ce l'ha questo DNA perché è arrivata tante volte in finale, magari non è riuscita a vincere però le competizioni è sempre riuscito a portarle al termine, centrando tante finali, poi tra vincere e perdere questo tipo di partite ci vuole veramente poco. Al Milan era così, siamo riusciti a vincere ma anche a perdere Champions, è quello che è capitato anche alla Juventus. Bisognerà continuare perché l'obiettivo della società, l'obiettivo nostro è quello di riuscire un giorno a portare a casa questa benedetta Coppa. Gazzetta dello Sport, Valerio Clari Ciao, buonasera. Volevo chiederti se per alcuni della vecchia guardia invece questo potrebbe essere stato l'ultimo assalto e se qualcuno di loro come ha preso questa eliminazione? Ma no, c'è grande delusione come all'interno di tutta la squadra, non parlo solo dei veterani ma anche dei più giovani. L'obiettivo di tutti era quello di centrare la qualificazione, quindi non parlerei per loro come la fine di un ciclo, un ciclo che è appena iniziato e quindi chi ne farà parte sarà orgoglioso di essere ancora all'interno di questo gruppo. Bene, non ci sono altre domande. Grazie a tutti e buonanotte.